e benvenuto a tutti quanti a nome di questa nostra famiglia, possiamo definirla ormai tale questo gruppo teatrale, noi l'abbiamo chiamato Regina Paces proprio perché è nato sotto la protezione di Maria Regina della Pace è un gruppo che sa stare bene in pace ed è un gruppo soprattutto di amici che si sono ritrovati e dopo... hanno voluto e vogliono rappresentare una commedia teatrale dialettale composta e qui ci vuole chiaramente un applauso che non è di forma ma è veramente fatto con il cuore dal nostro amico Rocco Conale sinceramente non ne ho mai visti recitare perché mi sono voluto riservare fino alla fine questa sorpresa ma da quello che mi arrivava all'orecchio mi dicono che sono abbastanza bravi o almeno o almeno vi scuseremo con molta gentilezza a caso mai dovesse esserci qualche defaianza bene, non dico altro, semplicemente un grazie al Signore perché ci ha dato la possibilità questa sera di essere qui presenti insieme un grazie che fa... il gruppo teatrale ma soglia Regina Pace di Paceco presenta a Quittadine dei Matrimoni commedia in due atti di Rocco Conale la commedia tratta di tradizioni ormai superate della nostra terra ho il piacere di comunicare che l'autorico e il professor Rocco Conale è con noi buon divertimento grazie a tutti addi addi addio a o Memoria Vieni con me colore di virtù! Vieni con me colore di virtù! Vieni con me colore di virtù! Ma così faccio le pruse! Come senti lì? Cos'è un'ora di pozzoni? Chi le sente, ma giusto? Chi è il nullo? L'urdo è pescato con niente! Vino, chi è il mio? Viene per la cera! No! Non si chiama la stessa! Varo, varo! Chi è il mio? Ma ci è il mio? Ci è il mio? Ma ci è il mio? Ma se ti è il mio? I picciotti, signor! Assacinate l'uomo! E' il mio? Andiamoci! Eeeeeee! Guardate la mia! E' potente! E' potente! Non devo fare bene anche! Ci è il mio? Ci è il mio? Ma questo è il mio? E' il mio? Ma facciamo una storia di niente, diciamo! E' il mio? Ma già non è il mio? E' 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 il mio? constantly! E' il mio? о? Grazie a tutti! Grazie a tutti!